bentornati a buone cose seconda parte di questa nostra puntata che ora ci vede immersi in un luogo magico ricco di fascino e ricco di attenzioni perché ogni tanto qui può cadere qualcosa dagli alberi che sono sopra alle teste mia e di Enrico Bucchi bentornati a buone cose ciao Stefano grazie allora Enrico Bucchi che lavora per Allegra praticamente insomma voi siete il braccio armato così si può dire ma in senso buono di Agrintesa questa cooperativa che raggruppa tantissimi agricoltori dell'Emilia Romagna ma non solo ricordiamo allora chi siete cosa fate il gruppo Allegra diciamo che rappresenta l'ufficio commerciale di Agrintesa siamo tre società commerciali Allegra in particolare è una cooperativa agricola anche se è fondamentalmente un ufficio commerciale ci riconosciamo e ci dichiariamo l'ufficio commerciale dei produttori in questo in questo contesto ragioniamo come interlocutore per la grande distribuzione conoscendone le dinamiche e mettiamo a servizio la nostra competenza la quotidianità del rapporto che abbiamo con loro sia per il sistema nostro quindi per la nostra proprietà che in questo caso è rappresentata da Agrintesa ma sia anche per realtà per produttori di tutto il territorio nazionale ma nello specifico in Emilia Romagna e andate a cercare meraviglie come quella in cui siamo immersi allora dove ci troviamo siamo in provincia di Bologna nell'appennino bolognese a Lujano praticamente siamo a due passi da Munghidoro il paese natale di Gianni Morandi e cosa succede qui nell'appennino bolognese che è stata riscoperta e rivalorizzata anche grazie a voi una produzione molto tipica e molto autunno invernale sì ci troviamo nel Castagneto di Cade Priami insieme alla collaborazione nata con mitica realtà del territorio negli anni è maturato questo tipo di progetto che già da tempo in questo territorio comunque sta crescendo e il progetto è quello del marrone biondo la nostra realtà insieme a Coop in questo contesto ha deciso di scommettere verso un progetto di filiera molto ambizioso che rappresenta fondamentalmente un territorio e una qualità assolutamente uniche per questo prodotto che ha una storia millenaria poi sentiremo il presidente del consorzio raccontarci nel dettaglio di che cosa si tratta diciamo che per noi l'orgoglio è quello di poter essere partner in questo senso di un qualcosa che ha una forte vocazione territoriale e che può generare sicuramente per tutto il territorio e anche per la distribuzione un valore aggiunto rispetto all'offerta attuale nel campo diciamo dei marroni e ne parliamo con Renzo Panzacchi che è il presidente del consorzio che si occupa di valorizzare questo prodotto davvero importante il consorzio dei castanicoltori bolognesi Panzacchi benvenuto a Buone Cose innanzitutto grazie un tanto allora parliamo un po' di questo giardino in cui ci troviamo visto che abbiamo introdotto l'argomento castagne e marrone biondo dell'appennino bolognese ma insomma voglio dire è un argomento bello tosto con delle radici ben profonde e secolari guardando il castagno che c'è qui alle sue spalle sì qui alle mie spalle abbiamo un esemplare che è datato di circa fra i 700 e gli 800 anni quindi ha una circonferenza di quasi 6 metri ed è traccia di questo castagneto in cui ci troviamo oggi definito di impianto matildico la diffusione in appennino del castagno è avvenuta durante il regno di Matilde di Canossa nata nel 1055 morta nel 1115 i monaci di Matilde di Canossa partirono dalla basia di Marola Reggio Emilia, Appennino Reggiano per divulgare tecniche agronomiche fra queste c'era anche quella della coltivazione del castagno in particolare del marrone e quindi rimangono in appennino tracce di castagnetti matildici perché l'impianto è rimasto quello quindi questa è una pianta che è molto vicina all'epoca di Matilde in appennino ce ne sono alcune che sono addirittura millenarie quindi già classificate di castagne questi invece sono marroni per cui è una cultura che ha sempre fatto parte della cultura della gente di montagna sfamando generazioni oggi sappiamo perché ha sfamato la gente non tanto perché gli riempiva la pancia ma quanto perché sono frutti ricchissimi di sali minerali e quindi hanno contribuito a arricchire l'alimentazione di questa gente che in montagna faceva veramente una vita grama ricordiamoci che siamo nel 1000 quindi l'America viene scoperta 500 anni dopo era quello che stavo per sottolineare io e quindi in quegli anni lì non c'era il mais non c'erano i pomodori, le melanzane, le patate insomma tutto quello che da Colombo in poi è arrivato dalle Americhe diciamo così e questo castagno è stato piantato prima della nascita di Cristo qualche secolo prima assolutamente qui stiamo parlando di una pianta che è qui dal 1200-1300 in sostanza e continua a fruttificare perché vedete ancora i ricci quindi è una pianta che ha il castagno non tanto questo ma in generale il marrone ha superato un sacco di avversità nell'arco di mille anni ha superato la crisi del cancro corticale ha superato il mal dell'inchiostro ha superato di recente i problemi legati al cinipide la vespa cinese che ha provocato danni incredibili arrestando proprio la produzione azzerando la produzione per alcuni anni il castagno è qua è arrivata la siccità il cambiamento climatico che si prende le colpe di tutto e i castagni sono qua che continuano a produrre ricci quindi abbiamo diciamo così un compagno di viaggio che ci sta accompagnando alla faccia di tutti i problemi del cambiamento climatico in Appennino continuiamo a salvarci e guardiamo la salute del castagno per capire come andrà l'anno per dire come andrà certo insomma una storia molto simile a quella degli olivi giù in Puglia è vero gli olivi secolari o millenari si si fanno parte della cultura e del paesaggio italiano l'ulivo, il castagno e il cipresso credo che abbiamo già messo una bella cornice al nostro paese senta questo è un bellissimo giardino biologico poi andremo a vedere anche come si raccolgono i marroni biondi dell'Appennino bolognese biologico, parolina magica che insomma forse non servirebbe neanche in un luogo come questo sì infatti io dico sempre che siccome biologico oggi quando in agricoltura significa aderire a un protocollo rispettare un disciplinare di produzione di un certo tipo dove sono previsti anche alcuni elementi chimici molecole chimiche che però sono quelle non dannose diciamo così nel caso del castagnetto la chimica è zero quindi non biologico per regolamento ma biologico per natura per definizione spontanea di questa coltivazione tanto che per combattere la famigerata vespa cinese avete introdotto un insetto antagonista che se la mangia quindi non... infatti quando è comparsa la vespa cinese che ha arrecato grandissimi danni questo era un insetto alieno la vespa cinese il cinipide che veniva appunto dalla Cina qualcuno è andato in Cina in Giappone dove il problema era già stato risolto e ha portato qua l'antagonista di quell'insetto un po' di dubbi all'inizio sulle possibili eventuali conseguenze di avere due insetti alieni invece di uno direi che a distanza di dieci anni di quindici anni se guardiamo anche al Piemonte dove tutto è iniziato non abbiamo visto differenze se non che questi due insetti hanno raggiunto il loro equilibrio oggi si controbilanciano e quindi non ce n'è uno che prevale sull'altro ma c'è un equilibrio raggiunto perché in un anno uno mangia di più quell'altro mangia di meno ma si sono equilibrati e quindi il danno è scomparso oggi non vediamo nemmeno una galla sui rami che erano quei bozzi che si vedevano sì che deformavano diciamo gli apici e impedivano lo sviluppo delle foglie e dei frutti e dei frutti e quindi abbiamo avuto un paio d'anni in cui proprio la produzione è stata azzerata completamente poi il nostro marrone biondo diciamo che è stato ci sono tracce scritte fino dal 500 quindi fa parte il marrone biondo della cultura di questa gente sostanzialmente di questo territorio che ha la fortuna di essere sì vicino alla città perché qui in massimo in mezz'ora arriviamo in centro a Bologna però siamo a 700 metri, 750 metri quindi con una qualità dell'aria migliore naturalmente con la possibilità di non fare trattamenti chimici pensate che nel territorio loianese dove ci troviamo adesso il 75% delle aziende agricole è tutto biologico tutto biologico quindi si produce latte di qualità si producono foraggi per il parmigiano reggiano si producono cereali antichi e si produce il marrone biondo che il nostro consorzio ha valorizzato ha riscoperto, ha rilanciato già a partire dai primi anni 2000 intanto è un miracolo che si riesca a fare in appennino, in montagna non tanto qua ma in montagna parlo in generale si riesca a fare associazionismo si riesca a fare perché i montanari lo diciamo tra virgolette sono un po' particolari sono tutti individualisti ma io credo che sia legato il fatto che l'appennino è fatto di tante valli parallele che nei secoli non si parlavano tra di loro ma anche tra frazione e frazione si si, campanili qua ognuno ha il marrone biondo migliore dell'altro ogni campanile qua, dovunque si giri quindi nel 2003 ci siamo riusciti a registrare il marchio marrone biondo alla Camera di Commercio e da allora abbiamo cominciato una serie di attività, di investimenti di istruzione, di formazione di chiamata raccolta anche di giovani abbiamo fatto progetti con le scuole agrarie sul territorio insomma ci siamo mossi in molte direzioni e siamo riusciti intanto a trarre giovani per cui nel consorzio che oggi conta circa 120 soci ci sono dei ragazzi che hanno 22 anni, 25 anni, 30, 40 che producono, gestiscono aziende agricole sono figli di agricoltori ma anche gente di ritorno dalla città ci sono dei laureati che sono ritornati a vivere sul territorio quindi hanno il castagnetto magari del nonno e si sono dedicati al recupero di questi castagnetti abbandonati che sono tantissimi pensate che in regione, vi do un dato certificato fino al 1983 erano censiti 11.000 ettari di castagnetti da frutto fra cui anche il nostro castagnetti dove si fa marrone biondo oggi in regione facciamo fatica a arrivare a 3.000 ettari questo per dirvi il dramma che è accaduto il nostro consorzio negli anni, in questi 20 anni ha recuperato tantissimi castagnetti che erano prima in abbandono riportandoli in produzione e poi sono arrivati in pianti giovani più recenti, diciamo che negli ultimi 20 anni sono stati creati anche nuovi castagnetti da frutto che producono marrone biondo perché la riproduzione, il materiale di propagazione viene sempre comunque dalle nostre piante quindi non ci sono coltivazioni di ibridi euro giapponesi come sta succedendo in Piemonte, in Campania e noi rispettiamo quindi questa tradizione culturale e culturale che ci viene dai nostri nonni io stesso sono nato qui molti anni fa il mio papà e il mio nonno già si occupavano di castagnicoltura faceva parte della loro vita quotidiana ecco mi spieghi questa storia perché lei diceva stanno tornando molti giovani molti giovani di tutte le età anche perché lei fino a qualche anno fa so che ha fatto il manager per un'azienda automobilistica importante, prestigiosa sì ormai fa parte di un'altra vita poi ho fatto un punto a capo quando mi sono ritirato sono andato in pensione sono ritornato al paesello io sono nato qua vicino e da allora mi sono dedicato non avendolo mai abbandonato prima perché naturalmente è sempre stato un hobby ecco poi è diventato un'attività più sistematica diciamo così e ho cercato anche di portare nel consortio ormai me ne occupo da 12-13 anni nella commercializzazione del prodotto nella comunicazione ho cercato di portare dei concetti che nella mia vita professionale precedente avevo imparato insomma che è quello ad esempio dei prodotti di nicchia quindi il marrone biondo sono partito dicendo questo è un prodotto che non ce l'ha nessuno quindi proviamo a valorizzarlo noi siamo abituati a raccogliere quello che viene dopo aver curato bene il castagneto quindi ci sono degli anni molto favorevoli come l'anno scorso ci sono degli anni un pochino più difficili come quest'anno, come 2021 perché dopo due mesi e mezzo di siccità abbiamo visto che il prodotto non perde niente in qualità perché c'è una concentrazione zuccherina fantastica è molto gustoso però il numero di frutti che andremo a raccogliere sarà inferiore a quello dell'anno scorso non cambia la qualità perché quello è costante devo dire nei secoli sono mille anni che noi mangiamo il marrone biondo ed è sempre buono in sostanza bene Presidente allora grazie per averci raccontato la storia del marrone biondo dell'appennino bolognese e della vostra cooperativa un prodotto che come dicevamo deve essere valorizzato pur restando un prodotto di nicchia anche attraverso la grande distribuzione noi adesso facciamo una piccola pausa poi andremo a vedere come si raccoglie questo marrone biondo e andremo a vedere appunto come viene valorizzato grazie ancora Presidente state con noi torniamo tra poco grazie a tutti grazie a tutti